Mentre in città si respira aria di Natale, l'ente carnevalesca di Fano si prepara con l'avvio del tesseramento 2020 che, oltre ad offrire la possibilità di dare supporto all'evento più importante della Regione Marche, darà la possibilità di accedere anche a grandi sconti e vantaggi. Ebbene sì, è partito il tesseramento 2020 per sostenere il Carnevale di Fano. Ci sono vari punti nella città in cui si può andare e sottoscrivere la tessera. Tutte le informazioni le trovate sul sito dell'ente carnevalesca che è www.carnevaledifano.com alla sezione tesseramento. Li troverete sia i punti di tesseramento che tutti i benefit che la tessera dà. E per primo direi, forse il più importante, l'ingresso al Carnevale ad un euro e poi tanti altri benefit sia sulla città che in tutta la Regione Marche. Chi acquisterà la tessera del Carnevale 2020 al costo di 10 euro, oltre al proprio contributo alla manifestazione, diventerà socio e potrà partecipare alle assemblee, esprimere il proprio parere e votare quando ce ne sarà bisogno. In più, chi acquisterà la tessera potrà entrare alle prossime sfilate del Carnevale di Fano in programma il 9, 16 e 23 febbraio, spendendo solamente un euro. Ovviamente sono consultabili tutti sul sito, la sezione tesseramento, sia i punti vendita delle tessere, sia i punti dove ci sono dei benefit per i tesserati anti-carnevalesca. Ovviamente il Carnevale di Fano è la manifestazione più importante non solo della città di Fano, ma della Regione. Ma sicuramente per i Fanesi è una manifestazione che cresce con noi, quindi è anche un modo per sostenere quel sentimento carnevalesco che è intrinseco in tutto il mondo.